Avviso ai naviganti della politica, si vince uniti, chi si spacca è perduto. Esemplare ciò che accade nella finalissima delle elezioni provinciali di Vicenza, dove il centrodestra col suo alfiere Nicola Ferronato, sindaco di Caldogno, scende in campo con tutti i favori dei pronostici. Ma poi la squadra si disunisce, emergono i protagonismi, saltano gli schemi e vince la squadra che non t'aspetti, il nuovo presidente della provincia di Vicenza e Andrea Nardin, primo cittadino di Montegalda, spinto da una coalizione di civici e partito democratico. Trionfa con un nettissimo 60% di preferenze. Eppure i numeri erano tutti per il candidato di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Azione Italia Viva, Civici di Renzo Marangon e Coraggio Italia. Un rapporto di forze che avrebbe dovuto consegnare a Nicola Ferronato una vittoria schiacciante. Invece in politica uno più uno non fa sempre due. I conti non tornano perché a favore di Andrea Nardin, nell'Alto Vicentino, giocano i civici del sindaco di Schio, Walter Orsi. Non è un caso se nel seggio di Tiene, che comprende anche Schio, Andrea Nardin trionfi 85-14. Ma è nel Bassanese la grande debacle del centrodestra. E' qui che la Lega si spacca tra fazioni opposte e Fratelli d'Italia si divide tra correnti guidate da tanti, troppi profeti. Con il risultato che adesso, sulla poltrona di presidente della provincia, ci si accomoda l'outsider Andrea Nardin, che dovrà fare i conti con quattro consiglieri provinciali favorevoli e otto contrari perché hanno votato per Nicola Ferronato. Con questo colpo di scena si chiudono quelle che possono essere considerate le prove generali delle amministrative di Vicenza, che metteranno uno di fronte all'altro il sindaco uscente, Francesco Rucco, sostenuto dal centrodestra e lo sfidante del Partito Democratico, Giacomo Possamai. La differenza è che per la provincia hanno votato sindaci e consiglieri comunali di tutto il Vicentino, mentre per le amministrative a decidere saranno i cittadini e i cittadini sono meno disponibili a seguire trame, complotti, intrighi di partito. I cittadini si affidano a chi gli dà più sicurezza, a chi è più solido, quindi attenzione, chi si spacca è perduto, oggi come domani.